Se sei nuovo di Linux, l'imbarazzo della scelta di sistemi operativi può disorientarti. Dovresti conoscere i due principali modelli di distribuzione e aggiornamento di software in cui le cosiddette distribuzioni GNU Linux si distinguono per scegliere quella per te. Vediamo differenze pro e contro. Ciao, se non mi conosci, sono Dario di Alternativa Linux. Di rolling e fixed release in Linux e non solo, ho parlato anche in un video che raccomando di vedere se si è nuovi di Alternativa Linux, perché già il titolo ed il sommario ti fanno capire se può tornarti utile. Come orientarsi tra le distribuzioni Linux. Puoi aiutarti nella scelta del tuo prossimo sistema operativo Linux. Spesso un sistema Linux lo puoi provare scaricando un file e trasferendolo appositamente su un supporto esterno USB per eseguirlo proprio da porta USB, completo di tutte le funzionalità anche se temporaneamente qualche volta in inglese, ma poi sempre tradotto in italiano. Puoi provarlo senza o prima dell'installazione, se supporta la cosiddetta modalità live, senza toccare l'installazione di un sistema operativo già presente. I modelli di sviluppo e distribuzione di software possono essere ricondotti principalmente ancora a due. Rilascio fisso e rilascio continuo. Linux non fa eccezione. Ma è importante comprenderli perché sono molto differenti le esigenze che possono soddisfare ciascuna con i propri vantaggi e svantaggi. Il modello di sviluppo e distribuzione a rilascio fisso è spesso chiamato in inglese Fixed Release o Standard Release. O anche Standard Point Release. È il modello comunemente più adottato per la distribuzione di software, quello per cui siamo abituati a parlare di una precisa versione di questo o quel programma. Talvolta prevede tempistiche prestabilite tra una versione e l'altra. Altre volte no. Quando miglioramenti, soluzioni di problemi e nuove funzionalità di un software sono sufficientemente testate, il produttore ne rilascia una nuova e differente versione. L'utente deve sovrainstallare la precedente o seguire una procedura di aggiornamento se vuole beneficiarne. In alcuni casi si distingue un rilascio maggiore da un rilascio minore. È il modello di Ubuntu nelle sue edizioni LTS, ma anche Linux Mint segue un calendario simile nelle tre edizioni basate su Ubuntu e in LMDE che è a base Debian. Ho chiarito questi e altri aspetti nel video appena citato. In una distro a rilascio fisso ci si possono aspettare sempre e comunque aggiornamenti, ma la quantità di dati da scaricare per applicarli non è significativa. Si tratta per lo più di patch, ma di rado introducono nuove caratteristiche. Cioè si limitano solitamente a risolvere difetti di componenti del sistema, della versione di kernel Linux adottata e infine di singoli programmi. Gli aggiornamenti che risolvono problemi di sicurezza, per i quali la tempestività è fondamentale, sono quelli che arrivano più rapidamente. Ma in linea di principio la base del sistema operativo non dovrebbe essere soggetta ad importanti rinnovamenti fino alla successiva versione. Anche i programmi di uso quotidiano, preinstallati ed installabili, sono come congelati ad una versione specifica. Sono eventualmente corretti in caso di problemi, ma raramente vi sono modifiche alle funzionalità. Fino al rilascio della versione successiva del sistema operativo. E alcuni programmi non sono aggiornati neppure in tali occasioni. Questo congelamento dello stato delle cose però garantisce che siano effettuati molteplici test prima del rilascio di aggiornamenti. Ciò si traduce quindi in maggiore stabilità, compatibilità massima tra i pacchetti software del sistema e affidabilità nel tempo. Le principali distribuzioni GNU Linux a rilascio fisso tra cui scegliere che mi vengono in mente sono la versione stabile di Debian, Fedora, Ubuntu Desktop e Red Hat Enterprise Linux e il suo clone Alma Linux. In linea di principio anche le derivazioni di Debian e Ubuntu prevedono lo stesso modello. Fanno eccezione ad esempio le ultime versioni di Ferran OS. Le distribuzioni a rilascio fisso prevedono un cosiddetto ciclo di vita, un termine oltre il quale sviluppo e miglioramenti non sono più apportati. Come per Windows. Linux Mint 21 e le sue release minori riceveranno aggiornamenti di software e sicurezza fino alla primavera del 2027. È categorico e indispensabile conoscere il termine del ciclo di vita della propria distribuzione, spesso indicato con l'acronimo EOL che sta per End of Life, e abbandonarla anche mesi prima piuttosto che oltre il termine previsto. Perché problemi anche gravi, che normalmente sono risolti molto rapidamente, continuano ad essere scoperti e divengono di dominio pubblico, ma nessuno ci mette più una pezza per risolverli. Una vera pacchia per un malintenzionato, talvolta c'è l'imbarazzo della scelta su come violare la sicurezza di un software con bug noti irrisolti. Per prendere a tua insaputa il controllo del computer, rubare dati sensibili, la tua identità e magari utilizzarla per compiere azioni criminali. Indovina chi andrebbero a cercare per primo. Altro che dubbi sulla necessità o meno di un antivirus. Nel modello di sviluppo a rilascio continuo, come prevedibile, gli aggiornamenti sono rilasciati continuamente. Non ci sono versioni, né maggiori né minori. Gli aggiornamenti possono riguardare il kernel Linux, il sistema operativo, l'ambiente desktop e i singoli programmi installati. Tutto è il modello adottato dalla minoranza delle distro, ma sta crescendo in termini di popolarità, apprezzamento e adozione. Per lo meno in certi scenari di utilizzo e per utenti con precedenti esperienze in ambito Linux. Appena disponibili le ultime novità, queste vengono immesse nel meccanismo di aggiornamento. Mai restare indietro con gli aggiornamenti per più di un paio di settimane se scegli una rolling. Preparati a scaricare tanti dati di continuo ogni giorno. L'idea è che sviluppatori ed utenti sono meglio serviti se sono in grado di utilizzare i più recenti pacchetti software. Sono le rapide del panorama Linux. Il corso è velocissimo, ma anche più rischioso rispetto alle acque quiete di una distro a rilascio fisso. È statisticamente più probabile che un aggiornamento crei qualche conflitto nel sistema. Un utente deve prepararsi ad affrontarli con conoscenze già acquisite con Linux. Talvolta non basta e si deve attendere il lavoro dei programmatori che intervengono quanto più rapidamente possibile per fornire una soluzione al problema. Indispensabile è pensare ad un sistema di pianificazione di punti di ripristino del sistema per poter tornare ad uno stato precedente e attendere gli ulteriori aggiornamenti. Le tempistiche secondo cui gli aggiornamenti sono rilasciati possono variare tra distribuzioni differenti. Visto che non esistono versioni, le distribuzioni rolling non prevedono un ciclo di vita né il termine del supporto, perlomeno finché il progetto continua ad essere sviluppato. Queste prevedono, ovviamente, come quelle al rilascio fisso, lo scaricamento di un file ISO per l'installazione. Talvolta vi è associato il termine snapshot per indicare una istantanea dello stato del sistema e degli aggiornamenti ad una specifica data. Una nuova immagine ISO può infatti essere rilasciata quotidianamente, a cadenza regolare, o come per Ubuntu Core, OpenSUSE, Tumbleweed o Endeavor OS, quando le modifiche apportate al sistema siano piuttosto sostanziose. Quanto più ravvicinato è il rilascio di nuove ISO, tanto più l'utente può scaricare ed installare lo stato delle cose ad un giorno preciso senza ricevere tonnellate di aggiornamenti. Un modello di riferimento di eccellenza tra le distro rolling è quello di Arch Linux. Piccoli e grandi aggiornamenti sono rilasciati quotidianamente. Ricoprono qualunque aspetto del sistema operativo, dei suoi meccanismi, del suo aspetto e dei programmi aggiuntivi installati. Alcune distro che adottano tale modello di rilascio, oltre ad Arch Linux e tutte le derivate come Manjaro, Endeavor OS o Garuda Linux, sono Debian, nel ramo definito unstable, OpenSUSE, Tumbleweed, Solus, PC Linux OS, Gentoo. Anche Debian Linux si presta bene per un confronto con i due modelli presentati. Ne ho parlato anche in Debian 11.1 Bullseye, il sistema operativo universale, e in recensione Debian 12 Bookworm. Il ramo stable di Debian prevede il rilascio di una nuova versione circa ogni due anni. Lo stato delle cose viene congelato ad una certa data e adesso sono apportati aggiornamenti che risolvono bug e difetti di sicurezza. Il ramo unstable di Debian ha invece il carattere di una rolling. Non a versione, riceve aggiornamenti di continuo, al sistema, all'aspetto, a tutti i programmi, ma ovviamente più soggetta all'insorgere di problemi. Qual è la migliore? Ciascuno dei metodi di rilascio e aggiornamento elencati ha i propri vantaggi e svantaggi. Ad esempio, in una rolling, importanti bug possono sopraggiungere ed è quindi sconsigliabile il ricorso a tale tipo di distro in un cosiddetto ambiente di produzione o in un server. Nessuno può desiderare un blocco di attività importanti, a meno che l'attività non sia proprio quella dello sviluppatore o tester. Sul lato opposto, quello delle distro a rilascio fisso, sostanziosi miglioramenti e versioni aggiornate di programmi possono richiedere mesi o addirittura anni per essere implementati. Però il fatto che siano da tempo nei PC di tutto il mondo garantisce che siano stati molto testati e che i bug emersi siano già stati risolti. Non è quindi possibile rispondere alla domanda su quale tipo di distro sia migliore in linea generale. La risposta dipende da vari fattori legati alle differenze elencate e alle proprie esigenze. Ricapitolando, i criteri distintivi dei modelli sono riconducibili a convenienza e stabilità sul lato fisso, maggiore supporto hardware e nuove caratteristiche su quello continuo. Ecco comunque un prospetto di confronto. Se hai un vecchio computer e con una versione di Linux supportata tutto funziona, una distro a rilascio fisso potrebbe essere una buona scelta. Per tutto il suo ciclo di vita potrai essere abbastanza sicuro di non ritrovarti da un giorno all'altro privo di supporto hardware. Inoltre, frequenti e sostanziosi aggiornamenti continui potrebbero non essere comunque adeguati per un computer datato e non performante. Se poi hai solo un computer e da quello dipendono le tue attività anche online, meglio optare per una fixed release. Un'altra valida ragione per scegliere una distribuzione a rilascio fisso potrebbe essere quella di non vedere le personalizzazioni all'aspetto spazzate via da aggiornamenti dell'ambiente desktop. Oppure di ritrovarti programmi che usi spesso, aggiornati nelle versioni, talvolta drasticamente differenti rispetto a quelle che sei abituato a gestire. Per contro, se hai un computer nuovo o comunque potente e performante, potresti preferire una rolling, per ricevere continuamente le nuove versioni di kernel, per migliorare il supporto hardware e provare nuove caratteristiche funzionali o stilistiche non appena esse sono sufficientemente testate. Un vantaggio delle rolling consiste proprio nel fatto che nuove versioni di programmi sono disponibili in tempi molto più rapidi rispetto alle fixed. In una frase, una rolling è meglio per ricevere tanti e frequenti aggiornamenti e novità. Una fixed se cerchi un sistema stabile e affidabile nel tempo. Una rolling è più adeguata ad un utente più esperto, che in cambio delle ultimissime novità accetti il rischio di dover affrontare problemi o talvolta attendere una soluzione da parte degli sviluppatori. Una distro a rilascio fisso è quindi più adeguata ad utenti meno esperti o che non hanno tempo né voglia di affrontare problemi, che contano di installare un sistema che funziona e sperano di dover ripetere una nuova installazione o anche un aggiornamento meno frequentemente possibile e a cui non interessa se i programmi di uso quotidiano sono stati rilasciati mesi addietro. Ho detto che i modelli di sviluppo sono principalmente e tradizionalmente quello a rilascio fisso o di versione e quello a rilascio continuo delle rolling release. Ma il sito web distrowatch.com e una parte della comunità Linux ritengono che si dovrebbe citare anche il modello semi-rolling in primo luogo e forse anche quello delle distro chiamate immutabili. Diciamo che le distro che ricorrono al modello semi-rolling prevedono un compromesso tra la stabilità e affidabilità tipico delle distro a rilascio fisso, fornendo aggiornamenti meno frequenti alle parti fondamentali del sistema. Una distro semi-rolling è di solito figlia di una rolling, ma il numero di test che viene eseguito prima della pubblicazione di una parte importante del sistema operativo è superiore alla rapidità con cui invece le ultime versioni di programmi e applicazioni aggiuntive sono immesse nel canale degli aggiornamenti. Ciò significa che si riceveranno aggiornamenti di sistema dopo oltre una settimana o dieci giorni dal canale rolling di riferimento, perché viene nel frattempo testata complessivamente prima della pubblicazione tra gli aggiornamenti. DistroWatch ha un apposito filtro per isolare le distro semi-rolling. Forse non è da trascurare nemmeno la categoria di distribuzione software delle cosiddette distro immutabili. Anche se solo in senso letterale ha a che fare con i modelli di distribuzione se non di rilascio, la categoria emergente dei sistemi operativi immutabili potrebbe essere oggetto di un articolo futuro. Si tratta di versioni di un sistema operativo che sono rese appunto non modificabili perché nessun permesso amministrativo è previsto per importazione predefinita per l'utente. Nessun altro programma può essere installato . Limita l'utente, ma ha le sue ragioni anche tecniche che la rendono valida in certi scenari. Anche se a ovviare e andare incontro a problemi, sarebbe tale da sconsigliarti immediatamente di usare una distro immutabile per installarci sopra programmi e creare accrocchi che devi ripetere a ogni aggiornamento. Nelle distro immutabili il sistema è il medesimo in tutti i PC in cui viene installato, questo garantisce di ricevere aggiornamenti ma anche di poter tornare allo stato precedente con un punto di ripristi efficientissimo in attesa del successivo aggiornamento, che può arrivare anche ad intervalli molto ravvicinati. Anche Ubuntu pare lancerà una versione LTS del suo sistema operativo desktop con la versione 24.04 attesa per la primavera del 2024. Ma anche altre distro prevedono una edizione perfetta per la gestione di tante macchine con il minimo sforzo. Vuoi scoprire le distribuzioni rolling, semi rolling o a rilascio fisso attive oppure quelle immutabili? Quelle indipendenti oppure basate o non basate su altra distro? O ancora rivolti a principianti con un particolare ambiente desktop o secondo tanti altri criteri? Alcune le ho citate rapidamente. Ma come non partire dal motore di ricerca del sito distrowatch.com? Il mega database delle distribuzioni Linux, ma non solo, è molto conosciuto tra i suoi utenti. E anche se non è molto tradotto in italiano, non esiste altra enciclopedia dei sistemi operativi open source simile. Ci sono anche interessanti recensioni, spesso a firma del responsabile Jesse Smith, con il quale ho avuto il piacere di scambiare qualche messaggio per la richiesta di disponibilità a pubblicare in inglese sul sito. Per tutto il resto c'è alternativa Linux. Intanto ti ringrazio per la visione del video e ti auguro una buona settimana. A presto.